beh raga io non ce la facevo davvero più e l'ho scartato senza di voi perdonatemi però non vedevo l'ora di vedere questo quadro questo frame nel mio studio e sì perché i ragazzi di studio mi hanno inviato questo raga questo e io non vedevo l'ora di averlo qui in studio questo è un iphone 4s e l'iphone 4s se siete nerd come me o meglio fanboy di apple saprete che l'iphone 4s è stato l'ultimo iphone presentato da steve jobs e sul palco e dunque è un onore per me avere un iphone 4s smontato in tutte le sue parti perché la caratteristica dei ragazzi di gris studio è proprio quella di smontare i devasti mille pezzi e metterli in un frame in un quadro così per abbellire uno studio o una stanza e per appunto un fan di apple come me non poteva mancare il mio studio questo però ho due belle notizie grazie appunto ai ragazzi gris studio ho un codice sconto che potete inserire all'atto dell'acquisto sul loro sito e vi permetterà di risparmiare ben 20 dollari oppure potete tentare la fortuna e sì perché gris studio mi ha messo a disposizione un frame dell'iphone 4s in regalo per voi per uno di voi che parteciperà al contest le regole del contest sono semplicissime tre banali regole una seguirmi sul mio profilo instagram la seconda regola è seguire i ragazzi di gris studio vi metterò il link in descrizione per andare a seguire il loro profilo instagram terza banalissima regola andare a commentare questo video con qualsiasi commento soprattutto se vi è piaciuto meno questo frame e ce lo fate sapere e così automaticamente parteciperete a questo contest io estrarò un partecipante a caso che vincerà un gris studio che gli verrà spedito direttamente dall'azienda e ragazzi ve lo posso assicurare è fighissimo è proprio bello 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 io non vedevo l'ora di toccare con mano no perché non si può toccare e nel vetro ma di appenderlo qui da qualche parte ringrazio ancora i ragazzi di gris studio per questo regalo per questa possibilità che ci danno che danno a tutti i miei iscritti perciò mi raccomando se vi è piaciuto a questa iniziativa andate a mettere un bel like al mio video e seguite tutte le regole del contest per partecipare all'estrazione di un frame iphone 4s ultimissima cosa questo contest dura ben 24 ore da quando vi verrà pubblicato su youtube dunque aprite bene le orecchie preparatevi a collegarmi mi raccomando e condividete con tutti i vostri amici questo contest perché vi voglio in tantissimi mi raccomando soprattutto perché dovete far conoscere i ragazzi di gris studio che ci hanno permesso tutto questo se vi è piaciuto questo video mettete un like commentate così partecipate al contest invitate tutti i vostri amici a iscriversi sul mio canale e soprattutto attivate la campanellina proprio per queste novità che escono così a caso sul mio canale ci vediamo al prossimo video e in bocca al lupo a tutti ciao